Hai capito che qualcosa non va con l'uomo che frequenti e la tua sensazione è che i tuoi sentimenti non sono corrisposti come vorresti. Senti che nonostante i tuoi successi per lui non sono mai abbastanza e che potresti fare di più. Allora potrebbe essere un narcisista. Se sei in questa situazione e vorresti essere certa che la persona che hai accanto sia un narcisista, puoi fare attenzione a questi suoi comportamenti e sempre in attesa di ammirazione. Sovrastima le proprie capacità sottovalutando quelle degli altri. Ha pochissima empatia. Non affronta quasi mai discorsi legati ai suoi sentimenti. Si relaziona spesso con persone di successo perché si sente capito solo da loro. Riconosci qualcosa nel tuo ragazzo? Se la tua risposta è sì potrebbe trattarsi di un narcisista. Nel prossimo video ti parlerò di come affrontare un narcisista. Iscriviti alla mia pagina per rimanere aggiornato.